Benvenuti, cari follower! Prima di entrare nei dettagli, non dimenticate di supportarci premendo il pulsante Mi piace per questo video e di condividere questo avviso con quanti più italiani possibile. Grazie! Così il modello europeo lancia un'allerta rosso scuro per le regioni settentrionali d'Italia del pericolo di temporali molto forti che si formeranno domani sera e notte, domenica 9 giugno 2024. Questi temporali saranno accompagnati da grandine, con rischio allagamenti. I temporali diventeranno più forti dalla mezzanotte a lunedì mattina. Le zone soggette all'allerta rossa sono Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trento, Alto Adige, Friuli, Venezia, Giulia, Veneto, Emilia Romagna. Allerta arancione per diverse zone della Liguria, Toscana. Si avvisa inoltre del pericolo di venti molto forti e potenti, con velocità prossime o superiori ai 70 km orari. Questo in direzione Toscana e Lazio e altre novità importanti, cercheremo di informarvi.